Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi ci concentreremo su un tema particolare, parleremo di acqua e ne parleremo relativamente al bilancio di Publiacqua di cui abbiamo ospite il Presidente Lorenzo Pera che saluto e ringrazio. Buonasera e benvenuti. Buonasera, buonasera a tutti. Allora parleremo del bilancio e quindi con questo avremo modo di parlare poi degli investimenti, delle strategie, delle prospettive anche di Publiacqua partendo però dai numeri in qualche modo perché il 2020 si è chiuso, Publiacqua ha approvato pochi giorni fa un bilancio che ha diversi capitoli che mi piacerebbe affrontare. Il primo riguarda gli investimenti ed è forse il tratto più importante. 93,7 milioni di euro investiti, a me ha fatto anche molto impressione un dato, sono 72 euro per ogni abitante servito gli investimenti, quindi per ogni abitante diciamo 72 euro vengono investiti a fronte di una media nazionale di 56 euro per abitante servito. Quindi insomma è parecchio di più. Tutto questo poi lo vedremo, magari ne parleremo anche riducendo i costi operativi e cercando di mantenere e ovviamente mantenendo il servizio nella stessa qualità che ha sempre avuto. Come ci siete riusciti? Beh Publiacqua è diventato ormai negli anni uno dei principali investitori in Toscana, investitori di colui che realizza investimenti in infrastrutture materiali e immateriali. Noi abbiamo nella nostra storia di ormai poco più di 18 anni, quindi siamo maggiorenni, investito oltre un miliardo e 300 milioni di euro. 93,7 il dato dell'ultimo anno erano circa 100, poco meno di 100 l'anno precedente, il 2019, saranno oltre 100 nell'anno 2021. Noi investiamo perché ci troviamo impegnati nell'ammoderamento dell'acquedotto che in questo momento continua a drenare circa il 51% dei nostri investimenti. Quindi, tanto per dare un dato, noi abbiamo sostituito lo scorso anno 73 mila contatori che ci permette di migliorare l'efficienza della rete riducendo le perdite che erano molto elevate. Stiamo raggiungendo e abbiamo raggiunto delle aree che non erano servite storicamente dall'acquedotto. L'abbiamo detto anche in questo luogo più volte, intere aree della Toscana sprovviste dall'allacciamento all'acquedotto oggi invece sono collegati. Quello che però abbiamo fatto nel corso degli ultimi anni abbiamo intensificato gli investimenti nella fognatura e nella depurazione. Questo per necessità e per volontà. Necessità perché c'è una procedura di infrazione che riguarda tutta l'Italia in merito agli impianti di depurazione. Cioè le aree urbane, o meglio quelle sopra i 2000 abitanti equivalenti, devono essere obbligatoriamente servite da fognatura e depurazione. E quindi abbiamo completato questa opera. Io cito sempre, ma è utile ricordarlo, prima del 2014 tutta la riva sinistra di Firenze, della città, del capoluogo della regione toscana, non era servita dalla depurazione. Cioè l'acqua consumata sporca finiva direttamente nel fiume. Oggi non è più così. Siamo a valori quasi del 95-96% della popolazione servita dalla depurazione. Nel corso del 2021 completeremo gli impegni che ci siamo presi nei confronti dello Stato e nei confronti, lo Stato a sua volta, nei confronti dell'Unione Europea. E questa è la necessità. In realtà questo è un territorio vocato al verde, all'ambiente. E quindi l'impegno che ci è stato dato dai nostri proprietari, che poi sono anche coloro che programmano il servizio, ovvero gli amministratori, i sindaci di questo territorio, hanno spinto fortemente Publiacqua nell'opera degli investimenti. Questa è la dimensione. Il dato che lei riportava di 56 euro abitanti, di 72 euro abitanti rispetto ai 56 italiani, è un dato molto significativo perché ci colloca tra i principali soggetti che fanno investimenti in Italia, questo sia per rincorrere il fabbisogno di un territorio che è comunque abbastanza povero di acqua, di fonti non superficiali di acqua, e di un territorio tuttavia che ha avuto questo grande desiderio di realizzare le opere. E lo ha fatto, e questa è la cosa più importante, secondo me più significativa, del corso degli ultimi anni, in particolare di questo anno che è appena trascorso, ma anche di quello che stiamo vivendo, senza aumentare le tariffe dal 2018. Questo non è un fatto che è particolarmente diffuso nel panorama italiano dei gestori del servizio idrico. Noi siamo fermi lì, quindi stiamo facendo più investimenti con più efficienza, e questo è sicuramente un segno della maturità dell'azienda. Ed è anche una cosa molto importante in un periodo non certo facile per tante famiglie, per tante persone anche dal punto di vista economico. Facciamo così, visto che ne abbiamo parlato, ma abbiamo fatto un cappello per dare anche l'idea, per disegnare un po' il perimetro di questo bilancio. Adesso ascoltiamo il servizio di Samuele Conti, che parla, ci spiega un po' nel dettaglio qualche capitolo di questo bilancio. Poi torniamo in studio e parleremo ancora di investimenti, parleremo di cantieri, parleremo anche di attenzione al territorio. Tra poco. Il Consiglio di Amministrazione di Publiacqua ha approvato il bilancio 2020, confermando gli obiettivi di sviluppo del servizio dello scorso anno, pesantemente condizionato dagli effetti della pandemia. In 12 mesi di lavoro e impegno sono stati investiti oltre 93 milioni di euro per migliorare e sviluppare le principali componenti del servizio idrico integrato, con il 51% di questi che è servito per interventi sull'acquedotto e il 36% per fognatura e depurazione. Investimenti che non hanno previsto aumenti nella tariffa per i cittadini e che hanno visto Publiacqua collocata tra le aziende italiane di settore che più investono sul territorio per ammodernare l'acquedotto. Sotto l'aspetto dell'impegno sulla dispersione idrica il 2020 di Publiacqua si è chiuso con 48,4 milioni di investimenti per nuove opere e 53,3 milioni di interventi in manutenzione straordinaria e risanamenti delle infrastrutture esistenti. Una molla di lavori che ha aggredito in particolar modo le perdite sulla rete con manutenzioni e sostituzioni delle reti idriche. Un risultato che colloca Publiacqua tra le aziende idriche maggiormente attive nella lotta allo spreco. Publiacqua ha posto una particolare attenzione anche al territorio e ai cittadini, sia con investimenti che con un ingente sostegno all'economia dando lavoro a 55 persone nel 2020 e ricchezza a 45 comuni dove gestisce il servizio idrico avendo effettuato il 40% dei propri pagamenti ad aziende toscane. Un impegno di vicinanza che è stato apprezzato dagli utenti il cui livello di soddisfazione è salito ad oltre il 92% con punte di gradimento importanti anche su aspetti specifici come ad esempio per gli uffici al pubblico, per il servizio segnalazione guasti e per il servizio relativo agli interventi tecnici. Questo è più o meno il quadro generale, effettivamente nel servizio mi ha ricordato un tema su cui inevitabilmente abbiamo aperto le nostre trasmissioni praticamente da un anno e più a questa parte gli effetti della pandemia, no? Che cosa, come è stato lavorare? Poi dopo torneremo al bilancio, però insomma che cosa ha provocato la pandemia su Publiacqua in generale? Avete avuto anche voi delle ripercussioni e quanto contano anche per voi, come contano per tutti i cittadini, le prospettive? Cioè il problema principale di questa pandemia è non avere una data di fine in qualche modo dell'emergenza. Forse oggi fortunatamente si comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel grazie ai vaccini, ma non c'è una data certa. Cosa provoca questa incertezza anche sulla programmazione, sulla possibilità di mettere a punto una strategia, no? Come serve per l'acqua? Ma allora, Publiacqua l'anno scorso non si è mai fermata come tutti gli operatori dei servizi essenziali. Noi abbiamo passato due mesi a continuare naturalmente a fare tutto quello che facevamo prima in una condizione di grave difficoltà. Io cito una cosa forse banale, ma immaginate le lavoratrici, non i lavoratori, che vanno a giro per i cantieri, che entrano, che devono operare sul suolo pubblico e non c'è nulla di aperto. Solo la gestione del personale, non soltanto delle operaie che sono impegnate con noi, ma anche degli operaie è stato complesso. Siamo stati impegnati nel garantire loro la sicurezza e naturalmente come parametro fisso, senza che mai venisse in discussione, garantire il servizio ai cittadini. Abbiamo dovuto fare degli adattamenti, lo abbiamo fatto in molto veloci, però devo dire che l'organizzazione della gestione del personale già consentiva di poterli fare agevolmente. Un operaio di Publiacqua, a differenza di altre imprese, non va in uno spogliatoio comune, si veste e da lì prende in qualche maniera l'ordine di quello che deve fare nel corso della giornata, ma parte da casa con un'automobile che è fornita dall'azienda, una flotta di nostra proprietà, ha un tablet e ogni 15 minuti c'è qualcuno, i cosiddetti dispatcher, che gli dicono dove deve andare, cosa deve fare. E questo lo fa grazie ad un algoritmo, ma anche alla conoscenza degli individui, perché sappiamo dove sono, sappiamo quale attrezzi hanno, quale conoscenza hanno. Quindi tutto questo ci ha consentito di gestire, ad esempio, la forza lavoro in maniera efficace. Abbiamo mandato a casa praticamente tutti gli impiegati, anche qui utilizzando tutte le nostre reti, che già sono in cloud, quindi questo ci ha permesso di... Cioè, abbiamo mandato a casa in smart working, in termini. In smart working, perché, a differenza di quello che diceva il servizio, anzi lo vorrei integrare, noi non abbiamo dato lavoro a 55 persone, e noi abbiamo assunto durante il lockdown nuove persone, 55 persone. Io mi sono ritrovato, a differenza di tanti miei amici, colleghi, ad andare a lavorare durante i due mesi di lockdown e anziché preoccuparmi di mandare a casa persone ad accogliere nuovi ragazzi e ragazze che entravano in azienda. Devo dirvi che è stata un'emozione per la quale siamo stati anche fortunati. Cioè, noi siamo cresciuti durante questo periodo. Quindi questo ha comportato per noi la pandemia. Una cosa che mi ha stupito, e che non riesco a dargli neppure una spiegazione di carattere economico-razionale, è che noi abbiamo assistito a un pagamento da parte degli utenti sostanzialmente regolare. C'è stata una lieve flessione, ma più che altro nei tempi. Quindi qui vuol dire che c'è un patto tra cittadini, imprese e gli operatori del territorio che è molto robusto. Io mi sarei aspettato una caduta delle entrate. Noi abbiamo sospeso, come peraltro tutti gli operatori, tutte le azioni di sollecito nei confronti delle tariffe. Quindi abbiamo consentito a coloro che avevano bisogno di più tempo, di poter avere più tempo. E abbiamo fatto anche delle operazioni straordinarie. Noi abbiamo pagato ai nostri soci 37 milioni di euro di dividendi. Quindi un super bonus nei confronti dei comuni che avevano bisogno di queste risorse per poterli impiegare in tutte le azioni che i comuni si sono trovati a dover fronteggiare lo scorso anno. Abbiamo aumentato il bonus per coloro che hanno difficoltà a pagare, ormai siamo intorno ai 3 milioni di euro, a poco meno, 2 milioni e 9, un valore che è sostanzialmente raddoppiato rispetto all'anno precedente. Quindi tutto questo l'abbiamo fatto e abbiamo garantito i pagamenti ai nostri fornitori, perché anche questo era un elemento su cui ci siamo trovati e ci siamo interrogati. Siamo andati in un momento di tensione finanziaria, però questa è stata una scelta consapevole che l'azienda ha fatto perché è un'azienda del territorio. Quindi ha la fortuna di essere, il privilegio di essere un monopolista, quindi in qualche maniera più fortunata di tante altre imprese che si trovano nel mercato e quindi nei confronti del territorio in cui è impegnata deve dare nei momenti di difficoltà. Anche perché il 40% dei vostri pagamenti vanno all'azienda toscana e quindi restano sul territorio in qualche modo. Quindi è necessario poi appunto questo patto, funzioni tra utenti e voi e tra voi ovviamente i fornitori. Tra l'altro insomma quello che pensavo mentre parlava, che poi alla fine tutto volendo, sempre tornando ai numeri, lo si trova bene in quei numeri che sono stati rilevati nel secondo semestre del 2020 che parlano di un gradimento salito oltre il 92% che però poi ad esempio riguarda per la segnalazione guasti il 97%, per gli interventi tecnici il 96%, per il rapporto con gli uffici amministrativi il 96%. Insomma sintomo che evidentemente la popolazione apprezza quello che fate e ve lo riconosce. Sì, tra l'altro una cosa che non ho detto prima, che è utile ricordare, è che noi siamo con gli sportelli quando siamo in zona rossa chiusi e lo facciamo perché, e tra l'altro senza che ci sia un'indicazione nazionale, ma allo stesso tempo noi abbiamo garantito tutti i servizi per l'utente attraverso il telefono, attraverso l'email, attraverso le app, le chat, quindi tutto questo è stato in qualche maniera sperimentato, un po' come gli acquisti online che sono esplosi durante il periodo del lockdown, molti li hanno imparati a conoscere e hanno scoperto che i servizi che la nostra azienda era già in grado di offrire erano all'avanguardia, quindi io credo che l'apprezzamento cresciuto non derivi da un cambiamento nostro, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ma è cambiato anche la percezione di quella che è l'azienda. Da questo noi stiamo imparando molto, come tutti, nella difficoltà ci sono degli elementi che ci consentono di cambiare e di immaginare di come sarà l'azienda del futuro, nei rapporti con i nostri dipendenti, nei rapporti con l'utenza c'è stato uno spostamento evidentemente verso il digitale, anche da parte di coloro che il digitale in qualche maniera o per età anagrafica o anche per predisposizione culturale in qualche maniera non volevano utilizzarlo. Tutto questo è migliorato e i numeri ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta. La percezione, il gradimento overall totale è del 92%, ma i dati quelli più significativi, quelli dei tempi per i nuovi allacci, i tempi di risposta rispetto alle sollecitazioni sono a valori intorno al 96, 97, 98%, sono salite tutte tra i 3 e i 4 punti percentuali. Questi sono dati che non raccogliamo noi, le raccoglie l'autorità di regolazione, quindi noi ne siamo come voi lettori, c'è un ente terzo che evidentemente li va a misurare e ci dicono che c'è un miglioramento. Quali sono i punti invece da migliorare in cui siete leggermente più in basso? Mi veniva in mente mentre parlava. Noi partiamo da una rete che è antica, che ha una storia anche importante, ma che appunto appartiene alla storia. Quindi noi innanzitutto partivamo da un dato delle perdite incredibilmente alto. Noi l'abbiamo abbassata di 4 punti nel giro di due anni, ma a partire dal 46, eravamo oltre il 50%. In realtà non c'era neppure una misurazione e quindi noi ci siamo trovati a dover abbattere sostituendo le reti. Tante di quei centinaia di milioni che noi paghiamo, che noi investiamo ogni anno, sono per sostituzione dei tubi. I cantieri che vedete per strada. I cantieri che vediamo per strada e che peraltro portano anche al miglioramento del manto stradale, vanno a sostituire tubi vecchi, desueti. Noi ci troviamo impegnati quindi in questa importante opera infrastrutturale, così come quello della fognatura e della depurazione. Ho citato il caso di Firenze, ma potrei citare la gran parte del territorio servito da Publiacqua. Meno del 50% era servito dalla depurazione. Ora siamo a valori che si avvicinano al 100%. Come dicevo del 96-97% sarà il dato di fine anno. Quindi questi sono gli elementi su cui siamo fortemente impegnati, così come siamo impegnati in un lavoro che faccia fare un salto all'azienda per quello che noi vorremmo che fosse l'azienda. Cioè un'azienda indispensabile per ciascuno di noi, ma non perché noi diamo l'acqua, ma perché vorremmo essere percepiti come indispensabili. Quindi noi stiamo lavorando sulla nostra consapevolezza verde, sulla nostra impronta. stiamo redigendo la carbon footprint, che sarebbe sostanzialmente appunto la misurazione di quanto consumiamo e di quanto restituiamo all'ambiente. Perché Publiacqua è un'azienda che fa un lavoro, citavamo prima il caso dell'Arno, ma non è solo il caso dell'Arno, sui corsi d'acqua, che raramente lo si trova da parte di altri operatori. noi lo stiamo misurando perché vorremmo arrivare a programmare le nostre azioni in maniera tale da diventare neutrali nei confronti dell'ambiente e magari un giorno anche positivi, cioè a restituire più di quanto in realtà consumiamo. Questo è un grande tema perché secondo me è una nuova frontiera culturale. Immaginare che l'impatto ambientale sia un costo vivo in qualche modo dovrebbe interessare le aziende che in qualche modo deve essere ripagato. Effettivamente, come dire, quando si parla di tutela dell'ambiente bisogna partire inevitabilmente anche dai numeri, dalle cifre, dai costi, perché se non si parla di quello difficilmente si arriva a una soluzione. Senta, visto che abbiamo parlato di diversi capitoli, le voglio chiedere prima una cosa molto puntuale, molto specifica. Vedevo che in Toscana, anche rispetto ad altre regioni in Italia, è il 58% degli abitanti del territorio gestitore a voi che beve l'acqua del rubinetto. È un dato buono o non così buono ed è cambiato in pandemia oppure no? Allora, il dato è un dato buono rispetto alla media italiana, tra l'altro con un'acqua che al di là di alcuni territori, penso al Mugello, che ce l'ha eccellente in termini anche qualitativi, non è così eccellente per la sua storia di provenienza. L'acqua dell'Arno, quando eravamo ragazzini, non era un'acqua di grande pregio. C'è stato un miglioramento, un forte miglioramento nei processi di potabilizzazione, non tanto sulla parte sanitaria, quanto proprio sulla parte che va ad agire sull'odore e su quello che è la percezione dell'acqua. Il dato quindi è molto alto, stiamo lavorando però e su questo è un elemento su cui noi lancieremo dei progetti che eravamo già pronti a lanciare prima della pandemia ma che abbiamo in qualche maniera sottratto alla loro operatività. Di quello che è a giro per il mondo è la tap water, quindi da noi l'acqua del sindaco, ma insomma gran parte delle organizzazioni internazionali a partire dall'ONU ma anche dei grandi comuni a Ginevra con uno charma che soltanto gli svizzeri possono avere, hanno fatto l'Aude Ginevra e quindi l'acqua di Ginevra promuovendo un forte utilizzo dell'acqua del rubinetto perché l'acqua del rubinetto al di là del fatto che noi la produciamo ma non ci cambia la renditività, questo ci tengo a dirlo, se ne consumiamo di più, riduce quando viene consumato il consumo ad esempio di tutta quella plastica di bottigliamento, del trasporto dell'acqua della bottiglia. Quindi noi stiamo lavorando sulla consapevolezza che l'acqua è buona, che l'acqua è salubre e anche un po' sulla moda, quindi sul percepire come qualcosa di interessante, di gradevole da un punto di vista culturale dell'acqua del rubinetto. Siamo impegnati con le associazioni di categoria e mi auguro che non appena le cose ripartiranno a pieno regime saremo in grado di lanciare un grande progetto dell'utilizzo dell'acqua del rubinetto. Il rubinetto ma anche dei fontanelli perché poi lo diciamo, insomma questo riguarda anche i fontanelli. Riguarda anche i fontanelli che fanno un piccolo lavoro, cioè per chi lo ama aggiungono l'acqua gassata, l'acqua viene distribuita in maniera fredda, quindi si può saltare il doverla mettere nel frigorifero e tolgono, ma lo possono fare soltanto i fontanelli, quell'odore di cloro che permane. Lo fanno soltanto i fontanelli perché il cloro è nell'acqua non per cattiveria ma perché contrasta la presenza di batteri e quindi se noi consegniamo l'acqua perché possa essere appunto consumata sempre, è un po' il... e non fa male, anzi tutt'altro, però gli toglie quel leggero odore che ormai è rimasto abbastanza poco percettibile rispetto al passato e questo grazie ai filtri al carbone che hanno sostituito in larga parte il vecchio sistema di potabilizzazione dell'Anconella che caratterizzavano il passato. Senta, le chiedo un'ultima cosa perché siamo quasi in chiusura, però è un po' riferito diciamo così al dopo pandemia. Ne abbiamo parlato di quelle che sono le strategie, le interventi, anche perché come dire, Pubblicacqua non si ferma mai, lo abbiamo detto, non è successo in pandemia, non si ferma nemmeno dopo, però come dire, anche rispetto all'ultima domanda, di solito mi capita di farla sul recovery plan, ma questo glielo chiedo non tanto sui fondi necessariamente che arrivano andando all'Europa, ma sulle strategie di investimento diciamo che riguardano la vostra azienda nei prossimi anni, anche rispetto a un tessuto sociale, rispetto a un tessuto lavorativo, economico, che in qualche modo andrà ricostruito, quasi come in un dopoguerra, no? Sì, allora, noi siamo, quando abbiamo letto i primi pillole del recovery plan, ci siamo ritrovati, nel senso che noi abbiamo progetti pronti, cantierabili, capacità di progettazione, capacità di fare i cantieri. Non è una cosa ipotetica, noi saremmo, siamo pronti. Ovviamente il nostro tetto è la sostenibilità, per cui se arrivassero risorse fresche noi potremmo intervenire da subito. Abbiamo identificato dei progetti strategici, in realtà l'avevamo già fatto, l'avevamo fatto con la regione toscana e l'autorità idrica toscana, che sarebbero praticamente quelle opere che consentono di dosare meglio i grandi accumuli di acqua che sono presenti in Toscana, i fiumi, il serchio, o la diga di Montedoglio, che consentirebbe di completare gli anelli, ma anche di migliorare il sistema di potabilizzazione della falda 1 e 2 di Prato. Quindi coprire quei deficit che noi ancora abbiamo sulla rete perché noi portiamo l'acqua da Firenze a Pistoia, passando per Campi Bisenzio, attraversando l'anello idrico di Prato. Quindi andiamo a una distanza importante, la dobbiamo spingere e quindi mantenere salubre. Questo ci consentirebbe di farlo. Il recovery plan è una grande occasione. Poi abbiamo anche fornito le schede, noi di fronte alla regione toscana, la città metropolitana di Firenze, i ministeri che ce le hanno chieste, la fondazione Entecassa. Ci siamo proposti, sono stati accolti e valutati positivamente, siamo ancora in attesa di un orientamento chiaro. Io mi auguro che il governo attuale e comunque il sistema dell'Italia, che in questo momento mi pare che agisca in maniera unanime, sia in grado di mettere immediatamente a cantiere i progetti. Mi auguro che siano anche i nostri, ma se non saranno i nostri, saranno altri, sarà importante il grande ramarico, sarebbe quello di perdere questo straordinario piano Marshall che l'Europa ha e che rischia, per i ritardi che stiamo accumulando, di farci, di ampliare la distanza con le altre aree del mondo, gli Stati Uniti e la Cina in particolare. Soprattutto per l'architettura, come dire, normativa e burocratica, che riguarda il nostro paese, che rischia di essere un grande, come dire, rallentatore, diciamo, dei progetti, della messa a terra, degli investimenti. Noi ci speriamo, però ovviamente, magari torneremo a parlare anche nello specifico di quelli che potrà fare Publiacqua e comunque delle proprie azioni sul territorio toscano con Lorenzo Perra, che intanto ringrazio. Grazie, grazie a voi, buonasera. A tutti per aver partecipato da casa. Ci fermiamo qui, naturalmente, ci vediamo domani. Buonasera a tutti. A lei. Buonasera a tutti.